Ciao a tutti ragazzi, sono Juventino Americano e vi volevo informare che stasera dopo la partita nella Spagna farò una live e parleremo delle partite che ci sono state oggi e più mi piacerebbe parlare del nostro grande presidente che è scomparso come sapete Boniperti e siccome io ho passato tantissimi anni ci sono nato per dire con lui perché lui ha smesso nel 61 io sono nato nel 61 però lui mi sembra negli anni sentata è diventato presidente della Juventus e io proprio in quegli anni ho cominciato a amare la Juventus e conosco tante cose della Juventus che forse i ragazzi giovani non conoscono, giocatori, episodi, cose tra Agnelli e Boniperti, tante cose che io ho sentito che io ho visto personalmente da quei tempi che avevo 7-8 anni, 10 anni e mi piacerebbe parlare con gente diciamo che ci capisce oppure gli piace sentire dei ricordi e niente così farò una live e penso verso le 11 per voi perché qui sono le 14, le due gioca la Spagna perciò finisce verso le 4, sì verso le 11, 10 e mezza le 11 diciamo così farò una live, chi vuol venire tutti siete bene accetti come sapete e tutti i miei amici i miei iscritti venite e chi vuole entrare cerco di far entrare sempre tutti e poi vedremo ok parleremo come ho detto un po' di tutto e ci divertiremo facciamo quattro risate come sempre però diciamo parliamo anche di cose serie del nostro grande presidente che se n'è andato e tante altre cose ok ciao ci vediamo domani sera speriamo che venite in tanti e iscrivetevi al mio canale così riusciamo ad arrivare diciamo un pochino più su ok ciao a tutti ci vediamo domani domani per me per voi è oggi ok ciao ciao